Un'agenda intensa per parlare dei temi caldi della Lega e Euro Lavoro per i prossimi mesi in tutto il Nord. Gli altri si scannano sulla legge elettorale, su un modello che è sempre meno democratico col passare delle ore. A questo punto ci propongono una legge elettorale che nomina un re, rifacciamo referendum, monarchia, repubblica, con un solo partito e un solo governante in Italia e basta saperlo, che il dissenso e la democrazia non hanno più spazio. Detto questo oggi ci siamo occupati di cose un pochino più serie, problematiche, che portano al suicidio ogni giorno un imprenditore o un lavoratore in più. Quindi lavoro, quindi Europa, quindi stop immigrazione, quindi tutta una serie di proposte anche per arginare il dissesto idrogeologico, le alluvioni. Abbiamo parlato di cose molto concrete, di dipendenza del Veneto, di manifestazioni di Bruxelles, abbiamo fissato Pontida per domenica 4 maggio. C'è una macchina in piena corsa. Interessante il coinvolgimento di esperti, ne uscirà un manuale, una sorta di manuale anche su tutte queste tematiche? Sì, per smontare tutte le euro balle. Non si può, non si fa, non si deve, non conviene. Oggi sono usciti i dati dell'Organizzazione Mondiale sul Lavoro che dice che in Italia per i prossimi tre anni si continueranno a perdere posti di lavoro. Quindi solo un cretino non si accorge che avanti così ci stampiamo contro un muro. Quindi sciurire dall'euro si può, anzi conviene. Lo spiegheremo parlando di mutui, di benzina, del valore delle case, del costo del lavoro. Quindi non è una possibilità. Dal nostro punto di vista come Lega è un obbligo. Perché con questo euro e con questo sistema criminale dei vincoli europei, per il nostro lavoro, per l'agricoltura, per il commercio, per il turismo, per l'industria è finita. L'ultima domanda. Che condizioni andrete a dialogare sulla legge elettorale e le riforme istituzionali? Prima si mettano d'accordo fra di loro, perché in due giorni hanno già cambiato 18 modelli elettorali. Siamo passati nel modello spagnolo, portoghese, finlandese, turco. Siamo al modello Corea del Nord, mi sembra l'ultimo in previsione. Però quando hanno deciso qual è il modello di cui discutere, ne discutiamo. Detto questo, noi non stiamo perdendo il sonno sulla legge elettorale. Se fosse una legge truffa per fottere la Lega, allora cominceremo ad arrabbiarci.